Cominciamo questo incontro dove io sono qui e chi guarda sta lì, parlando di relazioni. In molti video che trovate, parlo di amore, amicizia e buone relazioni. In questo voglio parlare di una cosa che ci riguarda, che si chiama relazioni extraterrestri. Allora, che cosa vuol dire extraterrestri? Che non è terrestre, cioè se calcoliamo che per terrestri viventi abbiamo quelli chiamati i regni. Erano chiamati i regni perché erano testi scritti nel periodo della monarchia. Cioè il regno vegetale, il regno animale. Allora, ci sono le piante e sono viventi. C'è il seme, la pianta. Però la pianta in genere non si muove. Poi sono gli animali, che sono chiamati animali perché hanno un movimento. Animazione vuol dire movimento. E poi gli esseri umani. Però ci sono altri esseri che appaiono e scompaiono e non si capisce bene da dove vengono. Allora, mi rifaccio a un testo che si chiama Bhagavata Purana, che si trova nelle home edizioni che ho fatto uscire in italiano, questa collana, Bhagavata Purana, che vi consiglio di leggere. Iveda, Mahabharata, Ramayana, tutta la saga di guerre stellari e George Lucas la presa da Ramayana. Parlano di rapporti avvenuti nel corso di migliaia, decine di migliaia di anni tra i terrestri e civiltà aliene e extraterrestri. Allora, se uno apre un libro di storia, sembra che la storia, quella che segna una scuola, è iniziata 5.000 anni fa. Dicono le piramidi a 5.000 anni, ma 6.000 anni fa cosa c'era? L'uomo primitivo. Allora come fa l'uomo primitivo a passare dal primitivo alle piramidi? Molti dicono, ah, le piramidi le hanno fatte in Egitto perché non le rifanno, non le rifanno perché non le sanno fare. Non le sanno rifare. Però il senso delle piramidi si era perso. Tant'è che la Sfinge era piena di sabbia, anche le piramidi, il vento portava la sabbia, erano abbandonate. Adesso le hanno ripulite, ha fatto la spianata di Ghiza, le tre piramidi, la Sfinge. La gente, perlomeno da quando è stato riscoperto, perché non è che 5.000 anni che c'è il turismo alle piramidi, c'è da poco. Ma chi ha fatto queste piramidi? Che pare che corrispondono alle tre stelle di Orione, costellazione di Orione. Secondo me c'è il collegamento con civiltà extraterrestre. Ma per capire cosa vuol dire terrestre e extraterrestre, cioè io sono terrestre, chi sta guardando può essere sia terrestre che extraterrestre. Io sicuro terrestre in questa incarnazione. Mettiamo una strada trafficata, io arrivo, aspetto ad attraversare la strada e vedo che una formica esce dal prato e inizia ad andare verso il centro della strada. Allora io che cosa vedo? Che la formica morirà. Posso mettermi lì e tra pochi secondi, quando la formica è andata in là, passa la macchina e la schiaccia. Allora che cosa prendo? Una foglia, raccolgo la formica e la ributto diciamo nel prato. E poi vado via. Non è che passo la vita a controllare se è questa formica, no? Quindi faccio un salvataggio alla formica. Perché vedo, lei non lo vede, ma sta andando incontro alla morte. Allora molte civiltà aliene, chiamiamole aliene, extraterrestri, quando esseri provenienti da varie parti della galassia o di altre galassie sono venuti qui, su questo pianeta, hanno fatto dei salvataggi, hanno fatto dei miracoli. Alcuni venivano con intenzioni positive e quindi hanno fatto salvataggi, miracoli un po' per tutti. Altri invece si manifestavano a un popolo e dicevano a quel popolo, volevano essere adorati e aiutavano quel popolo contro altri popoli. Se vedete la Bibbia, molti dicono Bibbia, Bibbia, ma se poi la vai a leggere si parla di un certo Yahweh che aiutava il popolo eletto, gli ebrei, contro tutti gli altri popoli. guerra, no? Allora, per quello che noi diciamo, noi siamo il popolo eletto perché c'è Yahweh, poi chi ha questo Yahweh è tutto da vedere. In altre culture, cinesi, tibetane, si parla di questi spiriti disincarnati che proteggono. il cattolicesimo. Il cattolicesimo è una religione molto particolare perché nasce come cristianesimo e poi cambia. A un certo punto un certo Martin Lutero in Germania dice se guardiamo i testi e quello che c'è adesso c'è una lista di cose che non c'entrano a niente. Secondo l'antica filosofia indiana, i deva, gli esseri di luce, deva vuol dire essere di luce, la lingua che parla è sanscrito, sono paragonabili agli angeli. La parola angelo viene dal greco angelos, vuol dire messaggero. Messaggero cosa vuol dire? È un po' il concetto di Star Trek, che l'astronave Enterprise gira ma deve seguire la regola cosmica di non interferire. Cioè può visitare una civiltà nei vari pianeti ma non interferire più di tanto. Chiaro, magari se c'è uno che sta morendo lo salvano, ma lasciano che ogni civiltà segua il suo sviluppo naturale. Quindi gli angeli annunciano, danno messaggeri. Quindi nel cattolicesimo ci sono angeli, arcangeli, cherubini, serafini, cioè quelli che cantano, che suonano, che emettono vibrazioni. È interessante che quando la gente moriva di morte naturale e parlava fino all'ultimo secondo, adesso la maggior parte muoiono con morfina, sedativi, calmanti e poi non vengono presi in considerazione. Si dice che quando uno moriva lentamente di morte naturale negli ultimi istanti o negli ultimi giorni sentiva dei cori angelici che secondo Iveda sono i Gandharva. Gandharva. Ma non è che quelli cantano ad alta voce, è un po' come la radio. Cioè se io, adesso il telefonino è spento, ma se è acceso e mi sintonizzassi su una radio senti una canzone. Allora questa canzone è trasmessa e io la ricevo. Quindi i cherubini, là si chiamano Gandharva, mandano vibrazioni che o in meditazione o all'istante alla morte quando lo spirito si sta lasciando. Lo spirito, cioè quindi ognuno di noi comincia a lasciare prima il primo chakra, quindi quando lascia il primo chakra il senso di solidità, quindi uno è steso, non ha più la forza vitale che va dal basso verso l'alto che tiene il corpo eretto. Poi un senso di arsura, quindi acqua, gli manca l'acqua, allora gli danno da bere. Poi il fuoco, il terzo chakra, il fuoco comincia a scendere, quindi il corpo si raffredda. Poi il quarto chakra, cuore, il cuore rallenta, respirazione rallenta, la voce, uno comincia a che parla poco o non parla, però non smette, il libro tibetano di memoria dice non smette di ascoltare, smette di parlare ma non di ascoltare, quindi è giusto dire anche delle cose a uno che o sta morendo o è morto. Allora parlano di questi cori angelici, quindi dal quinto chakra arriva il sesto, la mente, ecco la mente può prendere i cori angelici, riprende, si sintonizza su delle frequenze alte, chiamiamo, alte livelli di coscienza. Ma allora, quello che con la foglia raccoglie la formica la toglie perché se no arriva un tir e la schiacci. Chi è? È uno che vedeva che poteva aiutare una formica. Allora vai dagli Incas, vai di qua, vai dagli Zulu, vai nel deserto del Kalahari, i Dogon, vai in Tibet. Parlano di questi esseri scesi dal cielo, ne parlano anche i Sumeri, li chiamano Annunaki, la Bibbia li chiama Elohim, plurale di Eloha, quelli che scendono. Padre nostro che sei nei cieli, più alto dei cieli, e quindi la relazione è che questi arrivano, perché l'impatto può essere devastante? Perché noi siamo in una stanza qui, un gruppo di amici, qua se c'era un amico che ha una vita media di un milione di anni e si nutre direttamente di energia cosmica e non deve lavorare per mantenersi, è un amico ma... e se quello lì dice che cento anni per lui sono un minuto e mezzo della sua vita, che cosa gli diciamo? Se lui dice torno domani, calcolando un domani della sua lunghezza, cosa trova qua? Quindi i rapporti di forza per capire che cosa vuol dire relazionare con civiltà extraterrestri, prima di tutto sono migliaia, migliaia. Noi siamo posizionati così, la galassia è immensa, noi essendo le periferie della galassia possiamo essere visitati o da civiltà chiamate extragalattiche, che entrando nella galassia ci trovano molto facilmente, o da civiltà che vengono da vari punti di questa galassia chiamata la Via Lattea. Se uno spirito eterno, perché anche loro sono spiriti eterni, incarnato in un corpo umano non ha un elevato livello di coscienza, o scambia chi ha un potere sovranaturale per Dio, oppure non riesce a relazionare. Però la cosa di cui parlano questi libri, il Veda, perché anche il Pura Purana vuol dire storie, e il Sanscrito, è che nell'universo materiale, che è infinito, ci sono a grandi linee due gruppi, i buoni e i cattivi. Quelli buoni sono chiamati Deva, Upadeva, vari livelli, e poi come specifico, Deva vuol dire essere di luce, si possono chiamare Gandharva, Kinaras, ci sono proprio qui i nomi, spiegazioni dove vivono, cosa fanno. Poi ci sono quelli chiamati cattivi, chiamati Asura, senza pace, e siamo nell'universo materiale. In realtà gli universi materiali sono infiniti, infiniti. ogni universo è una galassia, che è chiamata come una bolla cosmica, ma in realtà è una spirale, con miliardi di sistemi planetari, ma come una bolla, che ruota su se stessa, quindi ci sono infinite spirali, di sistemi planetari, che ruotano, e non si capisce dove è i confini. questo è la dimensione materiale, poi c'è quella spirituale. Tutti gli spiriti vengono nell'universo materiale e prendono un corpo partendo da Deva. In ogni galassia c'è un Brahma, Brahma vuol dire creatore, e ha una vita materiale. Allora chiamiamo materiale anche chi ha un corpo energetico. Cioè nel mondo materiale c'è chi ha un corpo materiale grossolano, tipo questo, e chi ha un corpo materiale energetico, ma è materiale anche quello, cioè temporaneo. Diciamo che nell'universo materiale chi ha un corpo materiale visibile da questi due occhi ha un corpo grossolano, fisico, solido. Chi ce l'ha energetico lo puoi vedere se lui vuole col due occhi o lo percepisci col terzo occhio. Cosa hanno i due corpi come caratteristica comune? Che hanno un inizio e una fine. Per me il corpo De Deva ha inizio, durata, fine. Qui sul pianeta Terra abbiamo nascita, malattia, vecchiaia, morte. Allora uno cosa può fare? Con i mantra, con la meditazione, con la buona compagnia, scegliendo un cibo di qualità biologico, naturale, preparato con amore, può attenuare le malattie o prevenirle o curarle e può ritardare l'invecchiamento o viverlo in modo più consapevole. Quindi nascita, malattia, vecchiaia, morte sono inevitabili, la nascita è già andata, ci rimane malattia, vecchiaia, morte, c'è lo yoga, il sistema chiamato yoga, che vuol dire unione corpo, mente e spirito in armonia, ci insegna a ritardare la vecchiaia e a prevenire le malattie. Però, comunque va, alla fine uno da questo corpo se ne deve andare. Quindi l'impatto con la classica astronave, quello che esce, ti guarda, ti comunica telepaticamente, può essere devastante. Perché tutti quelli che hanno avuto contatti con varie, ripeto, le civiltà aliene sono varie. Varie. Io quando sono andato in Africa per dieci anni in Kenya che volevo fare una scuola, abbiamo fatto una scuola per i bambini poveri, bambini, bambine, eravamo tra Malindi e Watamu, noi eravamo in mezzo a Mayungu. Siccome venivano a fare il bagno con le barche molti turisti, c'erano questi ragazzi dei villaggi africani che andavano lì con me a chiedere aiuto. E la cosa buffa è che molta gente se levava una maglietta di Armani perché gliela dava, occhiali, un giorno ho pensato, guardavano uno di questi, chiamavano Beach Boys, ragazzi della spiaggia, questo è vestito con oggetti che costano, metti, mille euro tra scarpe e pantaloni, ma lui non lo sa. Perché se gli dici l'equivalente in Scellini Kenyoti, di quanto vale un paio d'occhiali che gli ha regalato quello sulla spiaggia, lui rimane, ma come? Cercherebbe di rivenderlo, ma a chi, a un altro africano, quel turista italiano gli ha regalato un paio d'occhiali di Versace e se ne va a comprare un paio, 250 euro. Quell'africano lì se trovano un lavoro massimo 50-60 euro al mese, quindi dici, sei mesi di stipendio per gli occhiali, dieci mesi per la maglietta, cinque, sette mesi per il costume da bagno, quindi che cosa fa un alieno esce dalla strada, ti dà un telefonino speciale, ti dà un potere speciale, e a chi lo dici? Allora tu ti dico, ah, sono stato rapito, preso agli alieni, raccontano, allora bisogna credergli, non credergli, non è questo che crede, la maggior parte delle persone non sono pronte a relazionare con civiltà superiore, il primo livello è relazionare con gli animali, non mangiarli, mai, il secondo è relazionare con gli umani, non competere mai, ognuno ha il suo karma, ha le sue qualità, i suoi pregi, avrà anche i difetti, ma è inutile competere, quindi condivisione 360 gradi, 24 ore al giorno, quando uno ha sviluppato un livello di coscienza superiore, allora può pensare di relazionare con esseri superiori, è come quando uno muore entra in quello che chiamiamo l'invisibile, il corpo è lì, ma lui è fuori, che esiste questa coscienza estracorporea, un dato di fatto, perché milioni di persone negli ultimi 40 anni, grazie alla rianimazione, hanno avuto un caso di premorte negli Stati Uniti nel 1992, 22 anni fa, tornano e raccontino è questo, io ero fuori, vedevo il mio corpo lì, vedevo il dottore, i parenti, vedevo la macchina, se l'incidente era in macchina, quindi uno quando è fuori, che cosa vuole fare? Vorrebbe tranquillizzare quelli che vedono il corpo, cos'è la cosa più brutta dei funerali per il morto? Vedere quelli che piangono, perché il morto, cioè quello che noi chiamiamo il morto, è quello che ha lasciato il corpo e lui che cosa vede? Che prima o poi lo lasceranno anche quelli che ce l'hanno e che lui insomma non sta così male come si aspettava, come gli avevano detto, sta, è, io sono, noi siamo, finita lì, però non sa come comunicarlo, allora cerca di mandare messaggi telepatici, mentali, apparire in sogno, c'è gente che per due mesi quando gli è morta la mamma, la zia, mi sembra come se fosse lì e ascolta, percepisce. Questi invece che vengono con astronavi si diranno in due tipi, quelli che vengono con astronavi, proprio astronavi, no? Arrivano, tipo i film di Fantasiano, atterrano, si apre, esce. Altri che invece grazie al teletrasporto appaiono dove vogliono in qualunque punto, di questa galassia o di altra galassia, per cui di colpo ti trovi uno, ti trovi un essere di luce lì che ti dice delle cose, ti dice delle cose, è come l'angelo che annuncia alla Madonna che avrà un figlio, e quello sono due, o è lui il padre, è possibile, perché nel Mahabharata un Deva, uno di questi esseri di luce, dice a una ragazza vergine, adesso ti lascio un figlio, lei dice ma io sono vergine, rimarrai vergine, perché l'irradiazione dell'ovulo avviene a livello energetico, non c'è sperma, non c'è contatto fisico, non c'è penetrazione, infatti, questa ha un figlio ed è partita vergine, si parla questo del Mahabharata, questo testo che ha 5.000 anni, allora lui cos'è, sa il futuro, l'angelo dice tu avrai un figlio, e però non ha capito, allora tutta la discussione, ma com'è possibile che la Madonna è vergine, è possibile se ha avuto un contatto con un corpo energetico, c'erano i figli di Dio che hanno avuto figli con le figlie dell'uomo, nella Bibbia ogni tanto si parla di queste cose, Ezechiele che è stato portato in cielo a vedere le cose, quell'altro che ha fatto un viaggio, Giona che è entrato dentro un pesce, forse era un sottomarino, un'astronave che va, perché un'astronave che arriva fin qua può andare anche sott'acqua, non è che c'è paura dell'acqua, se poi calcoliamo che il 70% di questo pianeta è acqua, ma se arriva una civiltà aliena e questa civiltà aliena si fa una base sottomarina e chi la va a beccare? Se una civiltà aliena si fa una base sottomarina a 5.000 metri sotto l'acqua, chi? Se la fa al polo nord, se la fa al centro del Sahara, di questi che ha fatto i film Guerre Stellari gliela fa fare al polo nord la base, no? Perché? Perché lì però tutte le storie chiamate leggende, mitologie di tutti i popoli parlano di esseri scesi che hanno comunicato per esempio i Dogon nel Kalahari che è il deserto che c'è, ci sono due deserti grossi, uno è il Sahara a nord, il Kalahari a sud, zona a Sudafrica, questi Dogon dicono che hanno comunicato con i Nommo, cioè con degli esseri che venivano da Sirio B, ma loro non è che la chiamavano Sirio B, loro avevano delle carte stellari dove c'è Sirio, poi c'è un'altra stella che ruota e per fare il giro intorno a Sirio A ci mette 50 anni e si chiama Sirio B e questi Dogon facevano una festa ogni 50 anni con uno che incarna si veste da Sirio A e gli altri da Sirio B. Non ci sono omicidi, non ci sono suicidi, quando c'è una discussione e ci si riunisce si trova la soluzione. Ai bambini viene usato come i sassi tutti i pianeti e i sassi più piccoli sono i satelliti dei vari pianeti cioè questi Dogon hanno scoperto negli anni 1130 40 dei francesi stati lì avevano una conoscenza astronomica inspiegabile e quindi parlavamo di questo Sirio B e dicevano che questi esseri avevano il potere di stare nell'acqua e fuori dall'acqua cioè erano esseri anfibi i Veda parlano di questi esseri e dicono che possono entrare e uscire dall'acqua quando ero a Puri nell'Orissa molti molti anni fa quando era poco visitata da turisti di vario tipo Puri è uno dei luoghi sacri dell'India mi raccontavano alcuni abitanti che tante volte hanno visto esseri di luce che andavano al tempio di Jagannath andavano lì e come li vedevano di notte che attraversavano i muri così e ci fu uno che seguì uno di questi esseri di luce poi quando era nella spiaggia vedeva che lui camminava e iniziava a camminare nell'acqua poi dopo è sparito perché noi non possiamo camminare nell'acqua se noi camminiamo nell'acqua ha già avuto il peso del corpo rispetto all'acqua non tocchiamo più terra allora dobbiamo riempirci di pesi per il palombaro si riempie di pesi per poter camminare sull'acqua poi per respirare c'è il boccaglio insomma invece questi entravano allora lui gli ha detto chi sei quello si è girato questa è la storia gli ha detto sono Vibishan che niente di meno del fratello di Rama cioè non il fratello di Rama era il fratello di Ravana che appare nel Ramayana che è la storia di Rama cioè nel Ramayana c'è Rama che è i buoni rappresenti Ravana il cattivo il fratello di Ravana che è una asura poi passa con i buoni allora quello lì dice che era Vibishan io quando sentivo queste storie che me le raccontavano 30-40 anni fa in India dubbi nessuno nessuno io ero molto conosciuto a Puri e c'era il Rotary Club che una volta mi ha invitato a pare che mi hanno fatto socio un orario del Rotary Club perché aiutavo i poveri i lebrosi i bambini loro apprezzavano è arrivata una delegazione del Rotary Club americano sono arrivati gli americani allora hanno fatto una festa in onore di questi americani e mi hanno invitato come ospite d'onore allora c'era tutti quelli del Rotary Club lì sono i ricchi i proprietari terrieri i proprietari di alberghi questa gente ricca e hanno fatto una festa di cibo così dove gli americani erano un po' gli ospiti d'onore allora ha parlato il presidente il presidente indiano ha detto ospitiamo i Rotary in un'organizzazione internazionale fanno anche scambi culturali lo scopo del Rotary Club è di aiutare la gente e poi dice stasera agli americani perché gli indiani mi conoscevano tutti mi conoscono a Puri mi conoscevano perlomeno in quel periodo ma avevano già invitato a fare conferenza a quelli del Rotary e ho detto abbiamo un ospite d'onore che viene dall'Italia un maestro spirituale Giorgio Cerquetti allora vado sul palchetto dove c'era tutto lo stemma del Rotary c'è il microfono prima fila c'erano gli americani c'era il presidente l'ex presidente c'erano 300 persone una serata indiana con le stelle io ho detto in questa incarnazione sono nato in Italia ho ricordi precisi di vita vissute in India mi fa molto piacere vedere qui i nostri amici del Rotary i nostri amici americani del Rotary dobbiamo fare i complimenti agli americani perché molti anni fa hanno mandato alcuni dei loro connazionali a fare quattro passi sulla luna hanno portato qualche sasso come ricordo di questa spedizione forse però ho detto i nostri amici americani non sanno che Puri questo posto da migliaia di anni è visitato da innumerevoli civiltaliene e lì i 300 indiani applauso a scena appena ho detto io ho detto fatemi finire la spiegazione ho spiegato che Puri era proprio un aeroporto di astronavi e questi continuano gli applausi bravo poi mi ha fatto un mantri off quando ho finito gli americani erano lì pensavano ma chi è questo italiano che in India è considerato un maestro spirituale che addirittura si mette a spiegare che Puri da migliaia di anni è visitata da astronavi io ho spiegato che la struttura del Tempio Indiano che è particolare così si chiama Vimana come le astronavi quindi la struttura del Tempio Indiano è una riproduzione fisica con le finestrelle quelli che si affacciano no? delle astronavi gli indiani in estasi ricordo quando ho finito sono sceso al palco tutti gurugi gurugi gli americani poi io in inglese perché parlo l'inglese come l'italiano erano perplessi perché non sapevano sai loro erano del Rotary gli indiani del Rotary non sapevano tra i rotariani che dico ma questo cosa ha detto? e allora c'era la cena io ho invitato i capi del Rotary a confermare ai nostri amici americani che io ho detto delle cose giuste loro ho detto Giorgio guru Giorgio Baba guru ha detto i deva vengono da migliaia di anni qui molti di noi ci hanno parlato li hanno visti allora io ho buttato là ah se vedi un deva lo riconosci subito non ha l'ombra allora gli americani cioè se tu vedi a mezzogiorno due persone che parlano uno fa ombra l'altro non fa ombra quello che non fa ombra è un deva il mio amico Mandelkan incontrò uno di questi yoghi un baba arancione no con la barba a Kathmandu erano le tre del pomeriggio e si fece fare una foto quando tornò a Milano Mandelkan che era Sufi maestro Sufi che appare anche nei film di Battiato Mandelkan mi pare il musicante mi pare il musicante vedi Mandelkan che proietta un'ombra sul muro e l'altro no e alcuni amici mi hanno dicono è incredibile questo qui con sta barba così sembrava che se lo incontravi gli davi due euro cioè sembrava un mendicante un deva e perché loro non hanno l'ombra come fa il deva a non avere l'ombra è semplicissimo non avendo un corpo solido non ostacola il passaggio della luce cioè la luce gli passa attraverso quindi dietro la luce continua però tu lo vedi tridimensionale se vai là a toccare lo senti solido vi consiglio di vedere nella serie youtube George Cerquetti guidata dal mitico unico ancora vivente perché dietro la telecamera Fabrice il video che si chiama Cerquetti Fellini e Ostuni dove riuscii a far dire al mio amico Ostuni che avendo fatto un accordo con Fellini chi primo dei due muore appare all'altro gli appare Fellini gli appare nel suo studio gli fa Lorenzino sono qua io spiegai nello stesso video che lo vedete adesso lo dico in due parole che lo stesso fenomeno era successo a Yogananda Yogananda Paramansa Yogananda che era seduto sul letto lui siccome viaggiava quando era in India si sedeva sul letto guardava il cielo e meditava un giorno sul tetto al Rigid Hotel che esiste ancora poi ha visto Krishna che gli faceva ciao ciao blu dal tetto come i micioni che vanno sul tetto era Krishna dopo una settimana era là che faceva la sua meditazione sul letto così apre gli occhi e vede Yukteswar solo che lui Yukteswar l'aveva sepolto io sono stato al Samadhi in India bruciano i corpi però quando un maestro è molto elevato in genere che vive negli Asham prendono il corpo lo mettono sepolto ricoprono dice che lui continua a mandare energia al corpo anche dopo perché c'è un campo energetico e lui ma come io ti ho sepolto aspetta questo se tocchi a te sembra solido tant'è che lui va contro le regole la regola è che quando Yogananda incontrava Yukteswar salutava così si chiama pranam io e te insieme maschile e femminile in armonia schizza dal letto perché pensa con l'accidenza e lo stringe quello che fa a me mi vuoi soffocare ma allora sei tu sì ma sei solido tu mi percepisci come solido allora Yogananda 25 anni ci ha messo a scrivere la tua biografia ha inventato la parola vita troni life tron che qualcosa c'è diverso dalle troni perché dice tu mi percepisci solido ma in realtà è un corpo energetico gli fa mi pare anche la battuta dice ci ho messo un po' a trovare uno che viene in un'altra dimensione che c'è cerca gioco cercalo la trovate in una camera d'albergo a bombe adesso vivo a irania locca irania vuol dire oro locca luogo locca da cui l'italiano luogo vuol dire sia luogo fisico che luogo dimensione non fisica quindi visivo e lì insegno a quelli che stanno ascendendo cioè che passano da un pianeta mediano ci sono i pianeti inferiori rissa tutti i giorni 24 ore guerra contente pianeta mediano questo uno può vivere o in modo demoniaco o in modo divino molti si illudono qui di vivere in modo divino ma sono mezzi demoni cosa fa il demone il demone spudoratamente considera gli altri persone da sfruttare esare e manipolare qualcuno pensa di essere parte della soluzione invece parte il problema perché usa gli altri a livello subdolo quindi io consiglio a tutti non usare nessuno non abusare di nessuno goditi la compagnia di ognuno riconosci che ognuno ha un potere diverso siamo individui quindi questo pianeta mediano la terra puoi vivere o in modo divino o demoniaco o in modo apparentemente divino ma non lo è apparentemente divino sono quelli che mangiano la carne e ringraziano Dio dicono la preghiera ma come fa Dio a essere contento che l'immagine delle creature chiusa l'apparenza che ci hanno già capito ognuno dice io vivo a Erania Loka insegno qua come gli insegnanti ho avuto la cattedra cioè si è trasferito a Erania Loka aiuta dice Yogananda dillo a tutti questo episodio gli dice dillo a tutti sempre leggendo autobiografie c'è un altro episodio interessante dove a un certo punto una notte a Benares sempre il titolo di un libro una notte a Benares io a Benares beh io uno dei motivi per cui non vado più nida al 2012 è proprio perché io starei a Benares starei a Rik a Benares io a Benares mi sento a casa c'è un tal casino un tale caos c'è gente che beh vedi bruciano corpi in continuazione c'è gente che va lì per morire a Benares beh lì una sera c'è un episodio cercato in autobiografia dove si vede una sfera di luce che arriva si ferma si materializza Babaji Babaji e Babaji che si materializza quello di quella foto là Fabrice Fabrice è lo spirito guida basta unire Fabrice riprendi e lui riprende Fabrice Babaji quindi il teletrasporto avviene così smaterializza il corpo una sfera di luce si ferma rimaterializza ma cosa vuol dire rimaterializza? l'informazione cioè tu prendi come Jurassic Park prendi una cellula da un corpo e lo fai uguale si chiama clonazione oppure prendi lo spermatozoo lo metti con l'ovulo lo mescoli gli assomiglia un po' all'ovulo alla madre e un po' al padre qui invece energia lo stato puro cioè smaterializza un corpo e lo rimaterializza cioè richiama gli atomi li riposiziona perché la caratteristica degli atomi è un po' come il lego a seconda di come incastrano fanno forme quindi quello è una griglia energetica e si rimaterializza a una velocità di quale? alla velocità della luce quindi 300.000 km al secondo quindi Babaji parte da suo ashram sono in Malaya a reala Benares quanto ci mette alla velocità della luce neanche un secondo se in un secondo fai 300.000 km Raniket Badarkasha dove sta lui Benares sarà a stare larghi 500 km quindi lui ad apparire in una parte del mondo ci mette mezzo seconda arriva una sfida di luce rimaterializza parlano e lui cosa dice? dice a un certo punto quando lui si materializza si apre come una botola esce fuori un'altra una Yogini e quelli che sono lì vedono sta scena e dice ah ma Babaji ma guarda io adesso sai dopo 1700 anni ho deciso che me ne vado e lei gli dice ma perché vai via rimani che fretta c'è allora dice vabbè allora rimarrò visibile sempre a un piccolo gruppo di persone perché lui non vuole la fama il nome non è che Babaji dice sono al bar sport allora c'è la fila no quando Nicolas Ruric per nove anni cercava Shambhal una volta vede un'astronave dorata che era sopra in cielo allora chiese a un lama ma quelli chi sono gli abitanti di Shambhala le città sotterranie sotto l'Himalaya trovò un abitante di Shambhala e gli disse ma perché voi non dite come ci si arriva perché Ruric russo era molto curioso lui disse non lo diciamo perché milioni di persone lascierebbero tutto vorrebbero qua poi non sono pronti dopo come mangiano dove dormono cioè la gente arriva vedi in India e vai in India e l'acqua calda e l'acqua fredda una che era venuta in India mi ha detto Giorgio tu non mi crederai ma io adesso andrò a vivere in una caverna dell'Himalaya c'è stato un periodo che spinto dalla compassione portavo diversi amici in India negli alberi questa due giorni dopo mi ha detto che non gli avevano cambiato l'asciugamano non gli avevano cambiato ed era quella che ha detto che voleva avere una caverna dell'Himalaya la quale caverna cioè fai fatica a vivere in una camera d'albergo qua in India che è la caverna dell'Himalaya cioè quindi dice verrebbero tutti qua tutti a Shambhala partiamo andiamo sei pronto gli abitanti di Shambhala hanno il controllo il corpo energetico i sette chaka controllano gli atomi le strutture atomiche e quindi hanno il controllo della materia possono vivere a tempo indeterminato persino i deva vanno da loro con le mani così a dire siete più elevati di noi praticamente il deva la vita di un deva è dolce vita alla grande astronavi corpi luminosi musica celestiale viaggiano nelle galasse c'è chi li ferma gli asura fanno le guerre vincolo sempre i deva alla fine ogni tanto perdono perché l'orgoglio li frega e allora gli asura giocano sul lato debolo però se noi guardiamo anche la struttura io mi ricordo quando ho fatto la comunione mi hanno dato una specie di quadretto di immaginetta così questo era un bambino di spalle vestito da prima comunione è una strada di campagna di quelle che si perde all'infinito poi c'era in un orecchio che parla il diavolo e nell'altro l'angelo cioè quindi loro cosa succede la tentazione non è che il diavolo o questo spirito maligno questo asura ti punta una pistola va là ammazza quello lì no ti tenta promotion promuove consiglio e l'angelo pure quindi se ogni bambino ha l'angelo che gli dice sta attento comportati bene che cosa poi hanno fatto gli ausura hanno confuso il messaggio degli angeli e come si fa dicendo che mangiare la carne va bene il rumore va bene gli insulti van bene le parolacce van bene invece i pensieri devono essere puri le emozioni pure le parole pure quindi c'è parole parolacce insulti bestie non va bene lamentelle non va bene cibo puro quindi vegetariano e azione pura quindi i deva hanno promosso una vita divina e gli altri non potendo distruggere l'hanno inquinata quindi la vendetta occhio per occhio emozioni noi siamo il popolo eletto parole noi e loro no distanza quindi va bene prima tutti parlavano Sanskrit poi ognuno a casa sua e quindi le lingue degeneravano poi qui abbiamo l'italiano poi in ogni regione c'è il dialetto poi addirittura ci sono degli esperti di dialetto mi hanno detto li ho incontrati studiosi lì sono così esperti che ti leggono cioè nel dialetto metti delle marche sono qui adesso nelle marche ti dicono se sei delle marche del nord o del sud dall'accento dal modo in cui vibri l'accento ma l'accento di chi è figlio della mente quindi i mantra servono per liberare la mente le affermazioni positive io ho fatto un libro che si chiama il potere della mente positiva col cd le affermazioni servono per riprogrammare la mente quindi ognuno può liberare la mente con i mantra in sanscrito poi va riprogrammata nella lingua in cui si è stato condizionato come? va deprogrammata e riprogrammata quindi cosa vuol dire relazioni extraterrestri? che possiamo trovarci davanti a degli esseri con un potere illimitato i nuovi telefonini che stanno facendo adesso ogni anno sono fantascienza allo stato puro la gente li compra non li sa usare non li sa usare ma io non li sa usare oppure li usano ma non hanno capito che il pancreas il fegato l'intestino funziona come il telefonino come lo programmi crea effetti qui dice telefono uno schiacci salve rubrica tra allora salve rubrica e non l'ho salvato l'hai perso quindi che cosa devi salvare tu la conoscenza allora noi abbiamo due poteri l'oblio è un potere dalla mente fa l'anestesia via il negativo via via ma te ti hanno riprovato da piccolo lasciami per via via la memoria per ricordare il positivo salva in rubrica salva in memoria memorizza gli asura hanno fatto in modo che la gente dimentica il positivo ricorda solo il negativo quindi quando due persone si aprono si raccontano tutte le disgrazie quasi tutti gli uomini e le donne che sono affascinati dalla compagnia reciproca passano le prime notti i primi pomeriggi a raccontarsi tutte le disgrazie lui mi picchiava ah si dunque il mio primo marito la mia prima moglie tutte le disgrazie sai sono stato violentato da mio zio da mio padre da mia nonno adesso poi racconto io cioè facevano i tour sai abbiamo parlato tutta la notte di disgrazie di veleno poi quando questi qui avranno rapporti sessuali siccome l'intimità è un amplificatore energetico tutto il negativo tutto il negativo il veleno allora i deva dicono oblio dimentica il negativo la memoria metti in memoria quindi c'è molta gente che sta usando i computer i telefonini tecnologia evolutissima e non ci ha capito che il fegato la milza la circolazione sana funzionano come questo come li programmi risponda la parte più importante per controllare il corpo e la mente è la lingua la lingua la lingua chi controlla la lingua controlla il corpo e la mente e come si controlla la lingua con affermazioni positive nella lingua che tu conosci in cui sei nato mantra in sanscrito e con cibo puro quindi chi controlla la lingua controlla tutto cioè la maggior parte delle persone che vivono su questo pianeta si fanno del male perché non controllano la lingua mangiano male parlano male non ricordano quello che hanno detto tante volte mi chiede di parlare con le persone dico scusa ripeti quello che hai detto io mi ricordo loro hanno già cambiato ma loro cosa dice stai andando a così l'effetto valanga quello che viene fuori sbotto vomito l'alluvione come invece bisogna pensare a quello che dici e dire quello che pensi però c'è la sera equilibrio i deva parlano sanscrito o comunicano a livello telepatico io ho passato molto tempo a Rishikesh ho conosciuto diversi maestri così Krishnadas che era uno mio amico che voleva che io rimanessi a vivere lì figurati quando mi ha visto ho detto Guruji che senso affettuoso no che poi cucina per cui chi vuole andare a Rishikesh se mi iscrive gli mando l'indirizzo vado a Krishnadas a nome mio lì si sta da bene ma lui quando era 15 anni è partito per l'Himalaya quindi 55 anni fa così e ha girato tutto l'Himalaya e diceva e io gli ho detto ma tu hai incontrato il Siddha fa come no che a Gangotri di notte anche lui che è uno yogi sono abbastanza devono dormire vicino al fuoco con delle coperte vicino al fuoco perché va a 20 gradi sotto zero però da mezzanotte a luna i Siddha cominciano a dire dei mantra nel silenzio delle vallate malayane a quel livello 3000-4000 metri questi mantra rimbombano nelle vallate e chi le ascolta gli passa il freddo tutto qualunque malattia passa tutto io ero ospite di uno scienziato indiano perché ci sono gli scienziati indiani sono anche gli istituti di tecnologia è la Indian Institute of Technology e quando mi ospitavo a casa sua poi io non ci sono più andato perché ogni volta che andavo là per stare un giorno devo stare quattro giorni e poi come fanno gli indiani io li conosco invitavo ogni sera un sacco di gente e io dovevo stare a spiegare io magari avevo già un altro programma però il periodo che andavo là poi non ci sono più e gli ho detto scusa ma raccontami anche tu qualcosa allora lui mi ha detto che lui altri scienziati avevano un maestro spirituale che era vissuto 200 anni e quando ha lasciato il corpo ha detto come l'avrebbe lasciato il fatto che ha vissuto 200 anni era dimostrato dal fatto che in alcune generazioni di persone di famiglia da nonno padre figlio nipote lo riconoscevano come guru questo maestro che viveva a Delhi a un certo punto ha avuto una visione come di un boschetto con un fuoco e cinque maestri dell'Himalaya che gli dicevano vieni allora lui lasciò Delhi e ha girato per cinque anni l'Himalaya pensa che determinazione cinque anni e un giorno mentre camminava si muovere da un villaggio all'altro da un ashramino all'altro vai in una radura vede quella scena loro dicono sediti erano loro t'abbiamo chiamato noi ma lì cinque anni adesso ha girato l'Himalaya mai un dubbio mai niente cinque anni c'è gente che quattro anni va all'università piglia la laurea ma quante ore dedica qualche ora poi fa questo girava gli altri degli insegnamenti poi gli ha detto tu non sei pronto per stare qui e devi tornare in India perché c'è l'Himalaya e l'India devi tornare giù nelle valli a Delhi io chiedevo a Bajanat questo scienziato ma perché tu mi chiami guru lui rispondeva perché tu sei un guru gli indiani poi se no why you call me guru you are guru ok per te sono guru allora parliamo degli UFO i Vimana ho passato innumerevoli giorni e notti a parlare di Deva con gli indiani e chi li ha visti questi Deva dice che non hanno l'ombra io ho in mente nel 2015 di scrivere un libro sui Deva nel 2015 perché ho detto beh uno per scrivere un libro sui Deva deve avere almeno 70 anni perché perché se uno ha 70 anni dico questo è rintronato ho scritto sto libro cioè sono cose da lei cioè uno dice no la demenza senile che cosa dice mi aspetto già allora Deva come fa ma tu l'hai incontrato io so già ma scusa io scrivo un libro su gente che non conosco mica male sta risposta ma scusa ma tu pensi che mi metto a scrivere un libro su gente che non conosco avevo scritto allora avrei chiamato il libro gli sconosciuti chi l'ha visti Deva Deva sono stati diversi sensitivi che mi hanno inconosciuto in America ma sai che tu vicino a te notiamo degli esseri dico me lo diceva sempre in amare Giorgio non girai mai solo e non sono i fratelli del cosmo quali fratelli sono compagni di viaggio multidimensionale multidimensionale sono qui adesso se li vedi li vedi se non li vedi hai sentito uno che ne parla meglio che niente quindi se uno vuole relazioni extraterrestri deve cominciare a mettere a fuoco le relazioni terrestri perché è un livello superiore un po' come uno che vuole andare all'università senza andare in terza media eh no dici ciccio tu stai calmo ti fai le medie scuole superiori poi vai all'università quando andai all'università e vai non ci capisci niente allora prendi un bambino stupido stupido che pretende andare all'università a meno che non sia un genio dieci anni lo metti alla facoltà scegliela tu e quello boh perché ci arrivi un po' la volta e ogni volta che il piano di studi va su è acquisito cioè per quello delle medie gli elementari sono elementari però per chi fa gli elementari quella è la scuola vado a scuola poi terza media poi quelli delle superiori quelli delle medie ragazzini poi quando all'università dici ma liceo ma sì era una ragazza stupidata poi quando è preso la laurea poi dopo dopo dieci anni che è preso la laurea specializzazione sì quando ero studente liquidi dell'università quando ero studente sì molte cose mi erano sfuggite adesso quindi ognuno quando si guarda indietro sembra che chissà cosa allora noi se vogliamo se vogliamo rendere reale una comunicazione con altri esseri che attenzione possono arrivare proprio come nei film con l'astronave incontro ravvicinato dal terzo tipo oppure apparire all'improvviso così dal trasporto dobbiamo essere pronti a capire questo essere singolo o plurale ha più potere di me e se uno fa fatica ad accettare che un altro essere umano terrestre ha più potere di lui pensa a te se ne incontra uno che non è terrestre gli gira una chakra gli gira male oppure cerca di arruffianarsene una volta ho spiegato un militare perché salutate così perché i primi guerrieri che si avvicinarono ai deva che sono assi di luce per non rimanere abbagliati dalla luce parlavano così coprendo gli occhi perché erano quelli i guerrieri che si avvicinavano e quindi è rimasto tra guerrieri il saluto è mi copro dalla tua luce i militari non lo sapevano io ho fatto il militare ho fatto anche la scuola allievi ufficiali sono il tenente tenente Cerquetti scuola allievi ufficiali 61esimo corso Ascoli Piceno ero in quella piazza in mezzo ad altri 1500 allievi ufficiali guardavo il cielo e vedi passare uno stormo di cicogne che portano fuori poi di notte ho detto la galassia è abitata la caserma pure cercavo di fare no ma di chi ma da chi è abitata sta caserma no poi a un certo punto scoprì che il comandante che era dei lagunari Aldo Milanese fece un discorso io alzai la mano al quarto giorno perché chiedevo un vitto vegetariano e scoprì che lui era affascinato dall'India perché aveva letto un libro scritto dal mio caro amico Piero Scanziani che siccome era nel 1969 io l'ho fatto nel 1970 al militare nel 1969 sono andati sulla luna e li hanno chiamati astronauti ora in latino nauta vuol dire quello che nuota che si muove quindi quello che si muove negli astri astronauti lui ha scritto entronauti quello che si muove dentro nelle dimensioni interiore Aldo Milanese aveva letto questo libro mi chiamò mi fece portare nel suo ufficio perché ero forse l'unico che aveva alzato la mano negli ultimi vent'anni che c'era lì che vuoi non mangio animali morti però voglio fare il militare e l'ho deciso di fare il militare perché no però voglio un vito vegetariano e l'avrai ma perché sei vegetariano sono stati nì ma veramente no ma sei stati nì vieni qua mi sono avvicinato ho aperto il libro sto leggendo questo libro conosco l'autore conosci l'autore sai il dottorato di noi ci si frequenta e mi fece fare una conferenza lo yoga la spiritualità ogni giorno mi veniva a cercare lui che voleva sapere io ci sono innumerevoli galassie noi siamo solo in una in questa galassia ci sono 400.000 civiltà umanoidi noi siamo peggio della serie C dilettanti non so amato non so siamo peggio dell'oratore cioè l'unico potere che un essere umano può sviluppare superiore a Deva chiamato Siddha è il potere della conoscenza riconosci che gli altri hanno delle qualità e sviluppato la qualità suprema riconoscere le qualità degli altri poi nel momento in cui riconosci le qualità degli altri le attrai queste qualità e non ti manca niente in India racconta una storia dell'albero dei desideri c'è un viandante che vuole andare in un luogo sacro allora cammina 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 arriva stanco arriva alla sera vede un albero bellissimo ma lui non sa che è l'albero dei desideri allora si mette lì e dice a me servirebbe tanto che io ho fame ecco comincia a dire ho fame siccome è proprio sotto la desideri dopo arrivano delle pastorelle di un villaggio vicino gli portano un sacco di roba da mangiare la lasciano lì salutano e va via e lui mangia è solo che dopo che ha mangiato fa freddo dice ah certo che dormire così adesso un po' che ho mangiato comincia a sedere freddo mi servirebbero delle coperte arrivano due pastori che passano di lì vanno delle coperte e gliele regalano lui se mette si fa un letto con queste coperte si mette lì sotto l'albero le vedete fa certo che se arrivassero dei larri ma ammazzano dopo un po' arrivano i larri e lo ammazzano cioè non aveva capito che tutto quello che lui desiderava si avverava allora qual è l'albero desideri l'albero desideri è la nostra schiena i sette chakra la spina dorsale è chiamata l'albero si dice una volta una volta si diceva di uno smidollato tiradrizzo io schienadrizzo hai dritto testa alta l'idea che il tronco si chiama il tronco cioè che è come un albero è quello quindi pensa immagina e lascia che avvenga ma sta attento quello che tu pensi e immagini poi avviene senza che tu ti sei accorto che l'hai pensato quindi attenzione a quello che pensi io voglio pensare bene voglio immaginare bene mi auguro che tutti quelli che ho incontrato in questa vita stiano bene allora gli auguro auguro a tutte le persone che ho incontrato in questa vita pace mentale ottima salute buona fortuna tanta felicità voglio essere in pace con tutte le civiltà estragalattiche di questa galassia e delle altre galassie problem zero allora l'altro dice allora faccio anche io farlo anche tu costa niente quindi rallenta semplifica stai leggero sei felice è chiaro che se arriva qua uno quanti anni hai per modo di vedere poi noi misuriamo gli anni che è un giro dentro di una sola ma se uno viene in un altro sistema solare che anni ha ci avrà un altro sistema di proporzione però mettiamo che ci capiamo quanto tempo hai rispetto alla mia vita che adesso nel 2004 ho 68 anni lui mi fa io ho 7 mila anni ah però te li porti bene ho anche un po' di senso all'humor però io conosco gente che ha 100 milioni di anni al centro della galassia c'è un pianeta Brahma dove lui Brahma il creatore il creatore dei corpi viventi di questa galassia una sua giornata dura 8 miliardi e mezzo di anni e io dico è proprio bella gente che frequenti cioè e che gli vuoi dicendo io sono te tu sei me no potenzialmente cioè siamo due spiriti incarnati in un universo materiale io in un corpo che bene che va 100 200 300 tombola poi è finito è quello 7 mila anni sta girando la galassia dico c'è un'astronave sì eccola là l'Arizona è lo stato d'America dove hanno visto più astronavi e ci sono proprio questi crateri naturali dove hanno portato gli astronauti se mi sta sulla luna lo viste a fare il training se mi sta sulla luna no c'è questo deserto che non è il deserto di sabbia deserto di rocce di crateri e io ero diventato amico di diversi sensitivi a un certo punto c'era questa Anita Dalton che era la responsabile del centro center of the new age cioè il centro della nuova era io entrai lì non conoscevo nessuno frase buttata lì che non ha senso perché chi conosce se stesso conosce l'universo ovunque casa sono entrato ho detto vorrei parlare con il responsabile allora c'era la reception una casa di quattro piani tutta colorata fuori era un centro olistico di sensitivi a Sedona passano quattro milioni e mezzo di visitatori all'anno c'erano quaranta stanze in ogni stanza c'era un sensitivo che faceva letture energetiche vuoi parlare con la spagna lui sta pensando che io volessi una lettura energetica mi fa tornare quattro io dico ma chi è che comanda Anita D'Alton io e viene alle quattro vado alle quattro mi fanno salire al primo piano apre una porta entro in un in un mega studio poltrone di vimini così dietro una specie schiena una matrona bionda tutta esuberante tutta italiani chissà perché stimola il sorriso gli hanno detto Italia Italia io ho detto Anita in inglese parlo l'inglese come l'italiano ho detto Anita una domanda lei pensando che la domanda era su di me ha detto yes yes da quanto tempo è che nessuno ti fa una lettura energetica allora questa gli è scoppiata una risata no come andava una parrucchiera fa da quanto tempo è che non ti tagliano i capelli o da un chirurgo dice da quanto tempo è che nessuno ti fa un'operazione cioè l'ho spiazzato allora ho detto hai cinque minuti liberi questa era gioia yes posso yes primo minuto sorrideva secondo come un po sembrava che stava vedendo un UFO poi mi fa tira sul telefono non so in che lingua caio comangi non so in che lingua lì sono i navaco gli opi non so in che lingua apre la porta navecchia guarda lei e chiude dico hai amato una sensitiva ho fatto così allora vado bene vai bene ha detto Joseph non si fidava di lei ha chiamato uno ha detto questo ha già detto l'ha guardato ha fatto così e se ne ha riandato l'anno dopo andai lì con un mio amico Enrico Kelly che voleva seguirmi in America arriviamo lì io ho detto vai di qui vai di là si vede questa casa colorata dico vedi quelle due lì adesso parcheggia lì una delle due Anita era lì fa un caldo pazzesco questa era fuori io sono sceso lei mi ha abbracciato Giorgio ben tornato allora Enrico mi fa ma perché questa era fuori dico chiedigliela a lei io sapevo già chiedigliela a lei e dico perché eri qua fuori aspettarci mica abbiamo telefonato spirit told me lo spirito gli ha detto Giorgio is coming lo spirito gli ha detto Giorgio e ne arrivo gli ha detto non mi fa far figurare se qua sono tutti sensitivi ma come lo sai lo spirito gli ha detto stasera dove vai a cena e mi stavo chiedendo dove vado allora sei mio ospito l'altro in un'altra cinese mi aspettavo una pugnalata alla schiena perché era un restaurante cinese più cinese dei ristoranti cinesi rasati a zero con dei codini intrecciati che gli arrivano a metà schiena lo sguardo da killer i sti cappelli a pagoda tutti con sparivano dietro dietro i come si chiama li separati ma voi qua ma cosa che vuoi un vegetariane ma che stava dicendo in cinese io gli ho detto Enrico non pensare a chi paga il conto questi sono sensitivi ci regolano la mente noi non paghiamo lui fa Giorgio io sono contento tu non mandare vibrazioni chi paga ma c'è chiaramente c'erano 12 persone a un certo punto Anita finita la cena fa Giorgio io vado a dormire io anche lì c'erano the mind never sleeps la mente non dorme mai allora una erano tutti sensitivi 12 sensitivi più 2 italiani io gli ho detto the mind never sleeps la mente non dorme mai allora una ma già fa andiamo a casa mia io io c'erano Enrico saliamo in macchina andiamo a macchina seguiamo arriviamo in una villetta a Sedona c'è un'area così rarefatta che è impressionante sembra che le stelle ti cascano addosso vedi tutte le stelle ma le vedi ce ne saranno un miliardo in più di quelle che vedi in una e poi c'è poca luce stradale a posto è impressionante impressionante dicendo Enrico adesso andiamo lì stiamo carmi io dovevo spiegare lui ha detto io giro con te gira con me stiamo Enrico se stai vedendo ti voglio bene no fatto sta che Magia 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 erano 4 donne 4 sensitive con 2 italiani io dico Magia ma turisti un programma radiofonico da notare che l'anno dopo sono tornato gli hanno dato un programma radiofonico coast to coast che non vuol dire costi qualche cosa ma vuol dire da una costa all'altra from San Francisco to New York che si sente gli hanno dato un programma un'ora alla settimana su cose esoteriche coast to coast allora questa mi guarda io ho detto questa già tavola ma scannerizzata allora lei mi fa mi piglia sotto braccio ma vieni con me usciamo vediamo proprio questo cioè è impressionante miliardi di stelle ma tutte ti cascano addosso perché l'aria è così rarefatta che loro mi hanno detto che saresti arrivato io ho abituato ai fuori di testa io ero consigliato io fuori di testa a bambino quindi io quando vedo uno fuori di testa non batto il ciglio rimango stabile dirà star una mua a ti dice Krishna il saggio non è turbato da nessun cambiamento dico ah loro tu sei in contatto con loro salutameli ci sono educati no? allora questa ti fa vieni qua mi piglia sto braccio segui il dito oh indica e lì vedevo tutte le stelle più due sberle luminose grosse così poi lì come fai a calcolare se a tre quattro cinque chilometri di altezza sono due astronavi madre di giorno non le vedi sono invisibili le vedi di notte sono stazionate qua loro mi hanno detto che sei stessa io ho ripetuto oh saluta perché qui relazioni extraterrestri manteniamo buoni rapporti qui e altrove tu vali molto grazie te l'hanno detto loro diciamo la battuta ma che te l'hanno detto no te lo dico io oh astronauti madri ma rogo cioè vedevi che non erano stelle però non ci facevi cazzo se guardavi però se guarda il dito dopo un po' che guardi dici noti la differenza e caspita se noti la differenza due robe grosse così con le stellette piccolette vicino in proporzione sono lì motherships astronavi madri cioè vuol dire che da lì escono altre astronavi tipo guerre stellari cioè da lì escono gli schivoli cioè escono i motorini come dire no? la vespa cioè esce quello che va a far casino no? esce chissà chi esce di lì cioè a me dico questa a me Shiva è chiamato tripurari pura vuol dire città pur maya pur puri tripurari colui che ha distrutto le tre città di qua degli asura ci sono delle astronavi grandi come città alcune con centinaia di migliaia altre con milioni di abitanti tripurari io ho detto qui giochi in casa astronavi madri io conosco anche le astronavi nonna cioè le marri dalle marri grand mother cioè l'astronave mothership è grand mothership cioè era un po' più cioè ecco lei si può no io sono con lei io ho avuto la fortuna di aver ricordato persone che se sembravo strano io loro io sembravo uno normale cioè nel senso inverso della parola normale però è così questi erano lì gliel'ha detto e sapevo salva se uno legge questi libri avevano astronavi queste astronavi come diceva lei hanno il potere di essere visibili o invisibili il mio amico scienziato americano Richard Thompson che ha scritto il libro da cui attingerò molte informazioni per quello che scrivo io sui Deva quando mi ha invitato a San Diego a casa sua scienziato lui viveva tra l'India e la California ha scritto un libro sui Deva Cività degli Alieni a casa sua San Diego vanno a fare tutto il surf invece lui studiava gli UFO ho fatto vedere dei video aveva il telecomando che scannerizzava il secondo me lo ricorderò vedi questa scena di questa astronave che passa nel cielo vedi il cielo azzurro astronave poi cielo azzurro cielo azzurro cielo azzurro cielo azzurro 20 secondi e poi riappare cioè per 25 secondi scannerizzati era invisibile cioè vedevi il cielo azzurro era invisibile quindi vuol dire che lascia passare la luce o se la mangia cioè perché noi quando vediamo vediamo rimbalzi cioè se uno adesso sta vedendo il colore qui è perché delle sorgenti di luce un po' dal sole perché sono le le quattro del pomeriggio di una meravigliosa giornata dell'eternità e un po' delle luci rimbalza e va là quindi se questo libro assorbe la luce non lo vedi o la assorbe o la fa passare non lo vedi questa è la nuova frontiera Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare